Sai come gestire, conservare e valorizzare i tuoi dati di ricerca? Sai chi può aiutarti a farlo? L'Università di Bologna mette a disposizione dei propri ricercatori dei professionisti nella gestione dei dati di ricerca chiamati Data Steward. In questo video ti presentiamo la figura del Data Steward e ti raccontiamo in che modo può aiutarti nel fare ricerca. Cosa intendiamo per dato della ricerca? Qualsiasi informazione raccolta per essere esaminata è considerata la base per ragionamenti, discussioni e calcoli. E invece chi è un Data Steward? È una figura professionale che dà supporto ai ricercatori nella gestione consapevole dei propri dati di ricerca. Tutti i ricercatori lavorano con i dati, ma la loro natura e le pratiche collegate variano moltissimo in base al contesto disciplinare di riferimento. Per questo il nostro team all'interno dell'Università di Bologna è composto da più Data Steward, ciascuno con un diverso background disciplinare. Quale supporto possono darti i Data Steward di Ateneo? Forniamo supporto ai ricercatori dell'Ateneo in vari modi, per esempio nel definire le strategie di backup e conservazione dei dati, oppure nella loro gestione secondo i principi FAIR, in linea con la redazione di un Data Management Plan. Ti supportiamo anche nella gestione di problematiche di privacy e di proprietà intellettuale, come ad esempio copyright e brevetti, mettendoti in contatto con le giuste competenze all'interno dell'Università. Con l'avvento del digitale, il modo di fare ricerca è cambiato, portando con sé nuove potenzialità e anche nuova complessità. Pianificare la gestione dei dati di ricerca all'inizio di un nuovo progetto può evitare molti problemi e perdite di tempo prezioso per la ricerca. Inoltre, ti può garantire maggiore visibilità, citazioni e opportunità di collaborazione. Pubblicare i dati sul web secondo i principi FAIR e seguendo le pratiche di Open Science rende la ricerca più trasparente e verificabile. Proprio per questo, sempre più antifinanziatori, come ad esempio l'Unione Europea, richiedono una gestione consapevole ed attenta dei dati di ricerca. Se fai ricerca all'interno dell'Università di Bologna, se stai elaborando dei dati e hai dubbio perplessità relativi a come gestirli, se vuoi sapere di più su come valorizzare la tua ricerca in un mondo sempre più digitale ed interconnesso, non esitare a contattarci. Risponderemo ai tuoi dubbi, aiutandoti a gestire i dati della ricerca nella maniera più corretta e consono al tuo progetto.